Viglia, questo è uno dei posti dove passeremo quando faremo l'Ambro Treffen, io sinceramente non lo so se ti sarai capace di fare questo guado, ma sono convinto che ti piacerà abbastanza, comunque dai c'hai ampi margini di miglioramento non ti preoccupare dai eventualmente tanto si affoghi qui l'acqua è dolce la puoi bere tranquillamente